Sì, ciao Franco, grazie di tutto, grazie per aver chiamato, saremo tivi anche domani, che valida pure domani l'attivazione qua. Saremo tivi anche domani, Franco, se ci colleghi ci va, è sempre piacere. Ciao Franco, a risentirci, buona domenica. Italia Whisky 3, BQK Italia Pimuno, ciao di novembre, ciao. Se ti colleghi domani, lo rispondi. Ciao 73, non ho capito, Pia. Se ti colleghi domani, appunto. Fanno 16 ore? Sì. No, perché l'ho? Sì. Sì, tutti i giorni. Sì, sì, sicuro, sicuro. A me che me ne dai i punti, Gassonte? Ci metto pure loro. C'è già. Eh? C'è già. Chi c'è già? Quale ha detto ancora? C.P. 40 metri, chiamano l'uplo di aermatori alpini, Italia P1, C.V. 90. Quali è prima d'arme? GRAM 77, 78. Attivazione del Memoriale Divisione Alpine di Colenza. IFA 281, Parco Ocso, Viare del Gesson, 26. Poi cambiamo qua, allora qua qui non può. C.P. 40, C.P. 40, C.P. 40 metri. C.P. 30 metri. Chiamano, C.P. 40 metri, c'è la reda portata, giocci, delle città all'arbe. No, dico, poi, quando togliamo, si stacca, no? Con la 40, 50, 40, 40 metri. Chiamo Italia P1, ciamo in novembre. Gruppo Radiamatori Alpini, diploma Pelle Nere. Gran 7, 7, 7, 8. Attivazione Memoriale Divisione Alpina Purensa. 50, 40, 60.